In mattinata a Ponte Caniano Faiano, presso la scuola Dante Alighieri, si è tenuta la presentazione del robot umanoide NAO, primo progetto sperimentale nel mezzogiorno e tra i primissimi in Italia, fortemente voluto dall'amministrazione comunale. NAO è in grado di interagire con l'uomo grazie a sofisticate applicazioni e tecnologie di riconoscimento di voce ed emozioni. È dunque un grande ed unico ausilio per l'educazione e la disabilità. È stato infatti già sperimentato in situazioni di relazione con bambini affetti da autismo e da altri disordini dello sviluppo che sono stati conquistati dal design accattivante e affascinati dalle sue capacità di interagire. Sindaco Ernesto Sica, con il robot NAO Ponte Caniano Faiano si conferma la capitale dell'innovazione scolastica nel mezzogiorno? Sì, indubbiamente avere attestati riconoscimenti che portano ad essere una scuola di riferimento a livello nazionale è elemento di orgoglio. Continueremo ad accompagnare il sistema scolastico della città di Ponte Caniano Faiano a farlo diventare sempre di più capace di interpretare il futuro e formare le future generazioni con grande qualità, con grande capacità professionale da parte dei docenti e quindi un ringraziamento sincero. Oggi è una grande giornata. L'eccellenza del sistema scolastico cittadini è oramai riconosciuta a livello nazionale e anche europeo con questo progetto? Ma sì, indubbiamente anche la collaborazione con la Bicocca crea condizioni di eccellenze. E credo, e non lo dico per essere partigiano, siamo una scuola di eccellenza.